La sicurezza non è un gioco. La Guardia di Finanza di Pescara ha sequestrato oltre 300.000 giocattoli e prodotti contraffatti made in China. Centinaia di migliaia di giocattoli non sicuri arrivati sugli scaffali di due negozi del pescarese da un deposito romano di prodotti cinesi contraffatti e venduti all'ingrosso. È nell'ambito del piano d'azione Stop Fake che i finanzieri del capoluogo adriatico hanno messo a segno un nuovo risultato contro le frodi in commercio e le violazioni al codice del consumo in materia di sicurezza prodotti, marcatura CE e prescrizioni d'uso. I militari dopo un'articolata attività di intelligence hanno effettuato in contemporaneo un doppio accesso sia negli esercizi commerciali pescaresi che risalita la filiera di importazione nel magazzino capitolino di giacenza dei giocattoli di manifattura cinese. Complessivamente sono stati trovati in vendita oltre 317.000 articoli dal valore di più di 300.000 euro con falsa marcatura CE, privi delle istruzioni, prescrizioni e destinazioni d'uso in lingua italiana sottoposti immediatamente a sequestro, denunciato il fornitore cinese per frode in commercio. Un forte campanello d'allarme riguarda i giocattoli perché spesso vengono fabbricati con sostanze chimiche dannose, ma come tutelarsi contro gli acquisti incauti? Occhio prima di tutto al prezzo, se troppo basso non è certamente sinonimo di convenienza, piuttosto segnale di truffa. Fondamentale poi osservare l'etichetta che deve avere la traduzione in italiano e riportare il marchio CE. Attenzione infine ai canali di vendita virtuali, dove è possibile incappare in tecniche illegali. Facendo attenzione a questi aspetti si possono ridurre sensibilmente i rischi in fase di acquisto. In ogni caso, conclude il colonnello Caputo, per rappresentare dubbio, fare segnalazioni, è sempre possibile contattare il 117, il numero di pubblico utilità della Guardia di Finanza, a disposizione dei cittadini H24. Grazie a tutti.